Ciao ragazzi, oggi parliamo della nuova maschera Dessol. C4 ripropone questo marchio con una linea di maschere. Sono delle maschere con 5 mimetismi in più la colorazione nera. La particolarità di questa maschera è data dal fatto che può montare lenti ottiche ma non solo, può anche accogliere il supporto per la cam. Come vedete questa maschera non ha il supporto perché è possibile smontare questa parte e montare il supporto. Ora vi farò vedere come funziona. Questo è il kit che viene venduto separatamente per poter installare la cam sulla maschera. Allora nel kit abbiamo questo pezzettino che va a sostituire quello che c'è già sulla maschera e abbiamo i perni, ce n'è dentro più di uno che nel caso vadano persi, per il fissaggio e il dadino per la vite della cam. Per rimuovere questo pezzo è molto semplice, quindi bisogna fare una leggera pressione sul retro e questo viene via semplicemente. Bisogna inserire quello nuovo, quindi si inserisce così, molto semplice, si prende il perno che va alloggiato qui all'interno e con un cacciavitino ma anche con l'unghia volendo si gira e questo è fissato ed è garantita la tenuta di questo supporto. Qui poi si monterà la cam. Lo smontaggio è altrettanto semplice, quindi si ruota il perno, lo si estrae, la solita pressione viene via e si inserisce l'originale. Questo non ha bisogno di perni perché la tenuta è comunque garantita perché non c'è il peso della cam. Il gioco è fatto, abbiamo la maschera normalissima. Allora al di là di questa particolarità che comunque la rende direi unica nel settore, abbiamo poi comunque una buona maschera per il nostro sport perché ha un volume interno ridotto direi, il silicone sembra di ottima qualità, sinceramente in acqua non l'abbiamo ancora provata ma quanto prima la proveremo e sapremo darvi un riscontro anche sulla qualità della maschera in acqua. Per ora ci invitiamo a presentarla a secco perché ci sembra un prodotto veramente unico, cioè il fatto di poter togliere all'occorrenza il supporto cam potrebbe essere utile perché magari qualcuno ritiene che possa essere fastidioso o non idrodinamico. Quindi questa è la particolarità. Poi per andare a toglierlo è semplice, si gira questo, si toglie il pernetto, questa qui viene via, si rimonta questo qua e il gioco è fatto. Abbiamo una maschera normalissima, quindi direi che C4 con Dessol ha fatto un ottimo lavoro, la maschera sembra veramente un prodotto di qualità. Grazie e alla prossima ragazzi!